Nel viaggio della vita la fede è nutrimento. Le azioni virtuose sono un rifugio. La saggezza è la luce del giorno e la giusta consapevolezza la protezione dalla notte. Se un uomo vive una vita pura, niente può distruggerlo. Se ha sconfitto la cupidigia, nessuno può limitare la sua libertà. Udda 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 Udda